Con un'esperienza di oltre 30 anni, il Four Points by Sheraton Catania sarà il luogo perfetto per le vostre nozze. L'incantevole vista sul mare e la natura rigogliosa della riviera dei ciclopi di Acicastello faranno da cornice al vostro giorno più importante. Il suo ristorante può accogliere fino a 250 ospiti e dispone di ampi spazi per banchetti ed eventi. Grazie agli arredi di design e alle sue opere d'arte, le sale interne della location saranno l'ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente, che metterà a loro agio tutti i presenti. Durante i tramonti della stagione estiva, la piattaforma sul mare e il giardino con il primo orto urbano in Sicilia rappresenteranno il luogo ideale per il più suggestivo degli aperitivi. Infine, la sua terrazza a bordo piscina contribuirà a rendere unico ed elegante il vostro evento. Nel giorno del vostro matrimonio vi verrà concessa la location in esclusiva. Un team di professionisti vi accompagnerà nella realizzazione di una giornata unica, dove ogni aspetto verrà personalizzato al dettaglio, con l'obiettivo di trovare le soluzioni più eleganti ed esclusive. Presso il Four Points by Sheraton Catania, la ristorazione viene interamente curata dallo chef della casa. I menu verranno realizzati attraverso l'utilizzo di ingredienti sani e genuini accuratamente selezionati dai migliori fornitori della zona. Per rendere speciale il capitolo più importante della vostra storia d'amore, non vi resta che scegliere il Four Points by Sheraton Catania.